Un serbatoio britannico Challenger 2 è stato colpito e praticamente distrutto vicino alla linea del fronte Robotinie, dove il contatore dell'Ucraina cerca di sfondare nella contro la Russia. È la prima volta che è stato visto uno Challenger 2. Fornito è l'82esima brigata d'assalto dell'aereo. L'equipaggio del carri armati è normalmente composto da quattro soldati in questa circostanza. I militari ucraini si sarebbero salvati. È il primo Challenger 2 perso in battaglia dal 1994. Quando il serbatoio ha debuttato. Un veicolo è stato distrutto in un episodio di Fire Friend in Iraq nel 2003.